no giù eh giù e fai il giro preciso è bastato di mandare avanti su una ruota fino in cima adesso magari non salgo neanche no cazzo se tenevi il piedino cazzo ce la faccio no mi son fermato apposta prima che ti spiego su no 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 jo stringi 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 si fa niente gira su o m hai sbagliato lì hai sbagliato lì il peso il peso di là qui c'è il peso dentro perché calcola che appena muovi il dietro devi dare in trazione dai mi raccomando è la pittina lì senza non vedo l'altro qui c'è il peso di là qua il peso di là il peso di là qui c'è il peso di là Allora, cazzarola!